Eccoci qui, eccoci, buonasera. Ci sono molte cose di cui parleremo in questo telegiornale, mettetevi quindi comodi, ma partiremo per forza dai dati di oggi, perché in questo sesto giorno dell'anno, se volete, il giorno dell'epifania, c'è stato il massimo storico di casi, come è successo ieri, l'altro ieri e il giorno prima. Continua la crescita, adesso siamo vicini a quota 220 mila nuovi contagi in 24 ore, subito sotto 200 il numero delle vittime, ma resta evidentemente alto anche quello. Una situazione difficile che, secondo alcuni, rischia presto di portare anche all'allarme per gli ospedali e soprattutto per le terapie intensive. Bene, abbiamo cercato di capirne di più e abbiamo sentito anche pareri diversi, secondo alcuni esperti e studiosi la situazione in realtà non è così prossima alla zona rischio, chiamiamola in questo modo. Tutto questo mentre ovviamente si discute, e lo faremo anche nella seconda parte del nostro telegiornale, delle misure di ieri sera varate dal Consiglio dei Ministri dopo una lunga riunione e ritrovando al momento del voto un'animità che era sembrata sfuggire di mano a Draghi e al suo esecutivo. Si sa che praticamente da domani probabilmente, 24 ore dopo l'entrata in vigore attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi 24 ore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale va in vigore l'obbligo vaccinale per chi ha 50 anni o più ed è un obbligo che varrà fino al 15 giugno almeno, vuol dire che chi compie gli anni, tra l'altro in questo lasso di tempo, entra automaticamente in zona obbligo vaccinale. Un obbligo che varrà anche attraverso il Super Green Pass e su tutti i luoghi di lavoro. Questa è la decisione e bisognerà vedere quali sono le sanzioni, si sa 100 euro per chi non ottempera, ma anche quali sono le modalità riguardo all'assenza sul lavoro e al rischio di perdita dello stipendio. Ci sono però altri aspetti, anche su quelli cercheremo di vedere analiticamente di che si tratta e vedremo quali sono le ripercussioni politiche, perché è evidente che la giornata di ieri lascia ulteriori elementi di frizione tra le forze politiche della maggioranza e non solo. È chiaro, ormai è evidente che questo si riverbera sulla lotta per, chiamiamola così più propriamente, per il Quirinale, ma anche su quello che è, come sappiamo, un altro tema di dissidio tra le forze politiche, è quello sul nucleare, innescato dall'Europa che ha messo tra le energie utilizzabili in futuro, in prospettiva verde, anche quella nucleare di nuova generazione, spaccando anche il campo politico italiano. Ma vedremo anche altro, perché ci sono almeno due storie fortissime a livello internazionale, di primaria grandezza. Il Kazakistan, dove i moti di piazza continuano a sommarsi gli uni agli altri e dove, come si sa da ieri, il regime del Kazakistan, stavo per dire di Almata, che poi si è chiamata Almati, ma non è più la capitale che a sua volta ha cambiato nome, comunque il regime del Kazakistan, i vertici del Kazakistan hanno chiesto aiuto alla Russia e agli altri paesi con cui è in vigore un patto di sostegno e di sicurezza reciproco. E sono già arrivati anche soldati russi, a quanto pare copiosamente, a presidiare le città e i punti di interesse strategico più importanti. Ma soprattutto oggi è, come sappiamo, il giorno dell'anniversario, il 6 gennaio dell'anno scorso, dell'assalto a Capitol Hill, all'edificio, al Campidoglio, l'edificio della democrazia rappresentativa americana. Tutti ricordano quelle scene incredibili di cui non si poteva neanche immaginare che sarebbero mai avvenute e che ancora segnano fortemente la politica americana. Oggi Biden ne ha parlato all'inizio delle celebrazioni con parole molto dure e, come si dice in questi casi, non poteva non fischiare le orecchie a Trump, che a sua volta però ha replicato dicendo che le sue accuse strampalate non servono ad altro che a nascondere il suo fallimento in questo primo anno di presidenza. Vedremo tutto e rievocheremo la situazione. Andremo anche a vedere però quella vicenda molto brutta di Trieste, quella donna scomparsa e il suo corpo ritrovato. Le circostanze ancora tutte da verificare, soprattutto il perché di quell'azione, probabilmente di quel delitto. Questo è altro, 30 secondi di titolo. Nuovo picco dei contagi oggi in Italia, 219 mila, l'indice di positività risale, sfiora il 20%, la Lombardia ancora una volta sopra 50 mila casi, resta alto anche il numero dei decessi, 198. Nell'ultima settimana i positivi sono aumentati di oltre il 150%, crescono i ricoveri ordinari, quasi 500 in più e le terapie intensive, ma grazie ai vaccini siamo lontani dal periodo d'emergenza di fine 2020, quando eravamo davvero prossimi al collasso delle strutture ospedaliere. Tra le nuove misure decise ieri sera dal Consiglio dei Ministri c'è l'obbligo vaccinale per gli over 50 che scatterà la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente domani. Il provvedimento fa discutere perché alla fine è il frutto di un compromesso tra le forze politiche, c'è chi puntava all'obbligo vaccinale per tutta la popolazione, per entrare nelle banche, centri commerciali, parrucchieri sarà sufficiente il Green Pass semplice dopo la battaglia di ieri in Consiglio. Ma parleremo di tutto questo nella seconda parte del nostro telegiornale. L'unanimità con cui il Consiglio dei Ministri ha avarato alla fine della nuova stretta anti-Covid e non cancella le tensioni emerse tra le forze di maggioranza e divisioni e distingo che si rifletteranno e che sono originate anche dalla corsa al Quirinale. Sul successore di Mattarella i partiti non scoprono ancora carte e strategie. Se da una parte i senatori di 5 Stelle premono per un bis di Mattarella le incognite riguardano il futuro di Draghi, l'eventuale candidatura di Berlusconi e il rischio Covid sui mille e nove grandi elettori. Nel terzo giorno delle violente proteste contro l'aumento del prezzo del gas e dei carburanti in Kazakistan è arrivato l'esercito russo, un aiuto fraterno, una locuzione che ricordano in tanti e lo ha spiegato Mosca, serve a difendere il paese dal terrorismo garantendone la sicurezza e l'integrità. Decine di poliziotti avrebbero perso la vita, oltre 2.000 le persone arrestate. Il presidente Tokayev con i primi provvedimenti ha azzerato il governo, oscurato internet, imposto un tetto ai costi del carburanti per i prossimi sei mesi. Fu un'insurrezione armata per sovvertire la volontà popolare. Con queste parole Joe Biden descrive l'assalto al congresso americano che esattamente un anno fa sconvolse e mise a dura prova alla tenuta democratica degli Stati Uniti. Chiamandolo l'ex presidente Biden accusa Trump di essere rimasto per ore a vedere i suoi sostenitori attaccare la democrazia, qualcosa che non era mai accaduta nella storia americana, nemmeno durante la guerra civile. Solo menzogne per coprire il suo fallimento, la replica di Donald Trump. Buonasera, quindi una giornata ancora una volta scandita dai numeri in arrivo del bollettino quotidiano, ma come abbiamo visto dai titoli non soltanto. Però dai numeri partiamo perché quella è la sostanza, l'aggressione numerica perlomeno, la pervasività della variante Omicron hanno portato i contagi in un sol giorno oltre la soglia di 200 mila e vicino a quella di 220 mila. Quei numeri quotidiani che arrivando da altri paesi ci avevano fatto sussultare in qualche modo apprezzare la situazione migliore solo pochi giorni fa in Italia. Invece non è più così. Sale ancora il numero dei casi registrati in un solo giorno nel nostro paese. Per la prima volta viene superata la soglia dei 200 mila contagi in 24 ore. La cifra totale è condizionata dal riconteggio effettuato dall'Emilia Romagna che oggi segnala 38 mila casi, ma a preoccupare anche l'indice di positività che sfiora il 20%. Ogni 5 tamponi fatti in sintesi viene trovato un nuovo contagio da Covid. Sono quasi 220 mila i nuovi casi scoperti in sole 24 ore con il rapporto tra esami e positività che sale al 19.3%. Scende lievemente il numero delle vittime che oggi sono poco meno di 200. La Lombardia ancora una volta sopra i 50 mila casi è la regione più colpita. Sopra i 30 mila l'Emilia Romagna che sconta però il cumulo delle positività non comunicate sino a oggi dal 31 dicembre per un aggiornamento informatico. A 5 cifre i casi anche in Veneto, Toscana, Campania, Sicilia, Piemonte, Lazio. Solo due regioni, Val d'Aosta e Molise, sono sotto i mille nuovi contagi Covid quotidiani. Secondo la fondazione GIMB, in sette giorni i casi in media su tutto il territorio nazionale sono aumentati del 153%. Sette giorni fa, giovedì 30 dicembre, con un numero simile di tamponi processati, i positivi scoperti erano stati 127 mila. La rapidità con cui si diffonde il virus mette in difficoltà anche le strutture sanitarie con aumenti di posti letto occupati sia nei reparti Covid 463 in più in un solo giorno che nelle terapie intensive dove attualmente ci sono 1467 pazienti, un aumento di 39 unità rispetto al giorno precedente. Nella media nazionale la pressione sugli ospedali resta ancora con parametri da zona gialla ma con evidenti differenze da regione a regione. La Liguria, ad esempio, attualmente parametri da zona arancione ma difficoltà in tutte le regioni. Da nord a sud complessa anche la situazione in Veneto, Calabria e Campania dove i medici lanciano un grido d'allarme e in Sicilia dove in un giorno i contagi raddoppiano un ospedale militare. Da campo è stato montato ieri davanti all'ospedale Cervello di Palermo per ovviare alla mancanza di posti letto con file di ambulanze a sirene spiegate per segnalare la congestione. Due tenso strutture sono state allestite oggi anche di fronte agli ospedali Civico e Villa Sofia. Sì, la situazione stasera si fa preoccupante, critica a Napoli, così viene segnalata negli ultimi minuti. Ma siamo andati a verificare com'è davvero la situazione, se siamo davvero vicini al punto di collasso e dove e se in realtà in generale possiamo considerare che la situazione sia sotto controllo. La situazione degli ospedali è critica, abbiamo bisogno di aiuto. Ora non abbiamo dati peggiori rispetto alle prime ondate, soltanto grazie ai vaccini che andrebbero resi obbligatori per tutti, altrimenti rischiamo di essere travolti e dover scegliere chi curare, di applicare il codice nero. Si sfoga oggi il Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli. Non possiamo correre il rischio che il medico domani debba decidere a chi dare la priorità per non sottoporre grande stress ai colleghi che sono in prima fila e che rischiano di naturalmente non prestare adeguatamente assistenza sanitaria in altre patologie e non avere conseguenze negative per i pazienti che chiedono diagnosi per malattie neoplastiche, malattie cardiovascolari, malattie del metabolismo. La pressione va contenuta, dicono fonti del Ministero della Salute. Gli ultimi dati sugli ospedali a livello nazionale restano però piuttosto stabili. Terapie intensive occupate al 15% dai pazienti Covid, mentre i ricoveri in area non critica sono al 21%. In realtà se procede in questo modo dovremmo riuscire a evitare il tilt degli ospedali, spiega l'epidemiologo dell'Università Statale di Milano, Carlo Lavecchia. Ha davanti i picchi dei ricoveri delle vecchie ondate prima della diffusione di Omicron 34.000 alla fine del novembre 2020, quasi 30.000 alla fine di marzo. Assumendo che le cose non peggiorino e quindi che l'aumento resti attorno ai 500 al giorno e comunque non superi i 1.000 ricoverati in eccesso al giorno e assumendo che l'ondata Omicron non possa durare più di un mese circa, noi dovremmo avere un picco che si collacherà attorno ai 25 e che dovrebbe restare sotto i 30.000 per quanto riguarda i ricoverati e quindi sotto i 3.000 circa per i ricoverati di terapia intensiva che arriveranno ancora dopo. Noi avremmo un continuo aumento del carico sugli ospedali nelle prossime 2-3 settimane, ma dovremmo restare sotto il picco della scorsa primavera che era di circa 30.000 ricoverati. Per il Comitato Tecnico Scientifico dello Spallanzani, l'evoluzione di Covid-19 verso una infezione respiratoria stagionale è uno scenario che appare sempre più possibile. Da ieri sera, lo sappiamo, c'è l'indicazione ben precisa che diventerà l'obbligo formale non appena sarà pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale di vaccinazione per tutti i cinquantenni e oltre che vivono nel nostro Paese, che sono residenti nel nostro Paese, che siano italiani o no. Come vedremo dopo il servizio, pochi secondi fa, fonti di Palazzo Chigi hanno precisato il meccanismo per quanto riguarda i tempi di vaccinazione. Ma è il momento di vedere, visto che sono state rese chiare del tutto soltanto da ieri sera tardi fino ad oggi, quali sono davvero tutte le misure decise dal Governo. Obbligo vaccinale dai cinquant'anni in su per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia è la misura più importante varata all'unanimità dal Consiglio dei Ministri. L'obbligo è immediato, scatta il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, e dovrebbe accadere domani, e sarà in vigore per il momento, fino al 15 giugno. L'obbligo vale per tutti, senza distinzione tra lavoratori e disoccupati. La differenza è che la sanzione, multa di 100 euro per chi non ha un lavoro, scatterà dal primo febbraio, mentre i lavoratori over 50 avranno tempo fino al 15 febbraio per mettersi in regola, cioè vaccinarsi e ottenere il cosiddetto super green pass. Chi non dovesse farlo andrebbe incontro a una multa più salata, dai 600 ai 1.500 euro, una multa da 400 a 1.000 euro è prevista anche per il datore di lavoro in caso di omesso controllo. Per i locali pubblici, alla terza multa, scatterebbe l'ulteriore sanzione di 10 giorni di chiusura, obbligo vaccinale senza distinzione di età per il personale universitario. Il decreto estende l'obbligo del super green pass anche per viaggiare su aerei, treni, navi e salire sui mezzi di trasporto pubblico locale. Sempre dal 10 gennaio servirà la certificazione verde, che attesta la vaccinazione o la guarigione dal covid, per sedersi al ristorante all'aperto, accedere agli impianti di risalita delle stazioni scistiche, per palestre, piscine, centri natatori, centri benessere anche all'aperto e sport di squadra. Il super green pass servirà anche per i centri culturali, sociali e ricreativi anche all'aperto. Stesso obbligo per pernottare in un albergo, partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose, sagre, fiere e centri congressi. Dieci giorni dopo, il 20 gennaio, chi non è vaccinato avrà bisogno di fare un tampone e ottenere così il green pass base per poter entrare in un salone da barba o in un centro estetico, andare dal parrucchiere dal primo febbraio. Il green pass base servirà anche per andare in banca, alla posta, entrare nei centri commerciali e nei negozi in genere. Il decreto modifica anche i protocolli per quarantene e isolamento nella scuola. Sospensione dell'attività per dieci giorni in caso di una positività nella scuola materna, alle elementari con una positività si procederà a test rapidi di controllo al primo e al quinto giorno, mentre con due casi si andrà in dad per dieci giorni. Per le scuole medie e superiori invece la didattica a distanza scatterà con tre casi positivi, con due casi invece saranno gli studenti non vaccinati a rimanere a casa in dad. I vaccinati potranno continuare a seguire le lezioni in presenza. Anche se è vero che dal fronte dei presidi c'è pressione perché si vada in didattica a distanza per questa prima fase di gennaio, perché se no il rischio, dicono coloro che hanno la responsabilità degli istituti scolastici, il rischio ovviamente di una situazione ingestibile. Ma come vi dicevo poco fa da Palazzo Chigi, da fonti di Palazzo Chigi, c'è una spiegazione precisa anche sulla tempistica dell'obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori pubblici e privati liberi professionisti di almeno 50 anni, che scatterà dal 15 febbraio del 2022 di quest'anno. Da quella data tutti i lavoratori e i liberi professionisti di almeno 50 anni saranno tenuti a possedere ed esibire il Green Pass rafforzato all'accesso al luogo di lavoro. Quindi ci sono di fatto 40 giorni prima di essere in regola tutti. Pertanto chi oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio. Queste sono le parole delle fonti di Palazzo Chigi. Una locuzione che è quella che in qualche modo timbra per la guida del governo queste parole. Tra l'altro siccome ieri sera non abbiamo fatto in tempo a dare l'ufficializzazione perché il Consiglio dei Ministri si è concluso subito dopo il nostro giornale, nella seconda parte del Tg commenteremo un po' perché sono anche controverse le misure che sono state varate. Ma il fatto è che a questo punto sappiamo che le reazioni, le prese di posizione dietro le quinti ci confermano che dietro al varo unanime del nuovo decreto Covid ci sono ormai dissidi aperti. È la gara del Quirinale, non soltanto. L'unanimità con cui il Consiglio dei Ministri ha varato ieri sera la nuova stretta su Inovax non cancella affatto lo scontro politico nella maggioranza che ha caratterizzato tutta la giornata. Il PD va all'attacco della Lega, accusata di avere tenuto un atteggiamento ostile e irresponsabile per essersi messa di traverso su alcune scelte, bloccando l'estensione del Super Green Pass per l'accesso a banchi, uffici postali, parrucchieri, centri commerciali. Stop che la Lega ha rivendicato e il Consiglio dei Ministri è ancora in corso. Siamo irresponsabili ma non appiescenti, siamo contrari a misure che limitano la libertà senza fondamento scientifico. Spiace che alcune forze come la Lega non vogliano mai assumersi responsabilità difficili, dice la capogruppo PD in Senato Malpezzi. Il suo predecessore, Marcucci, attacca anche i 5 Stelle colpevoli, dice, assieme alla Lega, di avere frenato sull'obbligo vaccinale. Che il PD voleva esteso a tutti, non solo agli over 50. Il fronte rigorista con il PD, Leo, Forza Italia e Italia Viva, sottolinea comunque il passo in avanti importante di ieri nella stretta contro Inovax. I 5 Stelle, convinti sulla strada dell'obbligo vaccinale agli over 50 anche da una telefonata tra Draghi e Conte, ora spingono sull'estensione dello smart working, oggetto ieri di una circolare a firma dei ministri Brunetta e Orlando che ne raccomanda il massimo utilizzo nelle prossime settimane. Ci siamo detti disponibili alle nuove misure, a patto che segua uno scostamento di bilancio per ristorare le imprese colpite dalle nuove restrizioni e che si faccia un utilizzo massiccio dello smart working, dice il vicepresidente 5 Stelle, Gubitosa. Lavorare sui ristori per le attività che hanno subito nuovi danni, come discoteche e settore eventi, è la richiesta che arriva da tutta la maggioranza e il ministro Gelmini annuncia l'avvio di un tavolo nei prossimi giorni. Dall'opposizione le bordate di Giorgia Meloni. Il governo continua con la sua folle e il liberale deriva ideologica, arrivando ad intaccare ancora di più i diritti civili, dice la Lidea dei Fratelli d'Italia. Fuori dai palazzi della politica l'appello del mondo della scuola, promosso da presidi e dirigenti scolastici contro le nuove norme per la ripresa delle elezioni. Nonostante il governo abbia confermato il rientro in classe il 10 gennaio, l'appello chiede la sospensione delle elezioni in presenza per due settimane, con l'utilizzo della didattica a distanza, per evitare, scrivono i promotori, una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle elezioni e scarsa efficacia formativa. Ma come si diceva, tutto questo ha un sottofondo, quello del rumore, del frastuono delle armi politiche in vista dell'elezione del Capo dello Stato. A 18 giorni della prima votazione per l'elezione del Capo dello Stato, le forze politiche restano a quota periscopio, in cerca di una strategia, prima ancora che di un nome. A tenere ai banco l'ipotesi del trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Una doppia partita da chiudere prima ancora che si aprano le urne, secondo Matteo Renzi. Meloni, Conte e Letta vogliono mandare Draghi al Quirinale perché vogliono le elezioni anticipate, dice il leader d'Italia Viva. Io credo che si debba votare a scadenza naturale nel 2023. Draghi è un punto di forza di questo Paese. Se vogliamo mantenerlo a Palazzo Chigi, gli va data massima agibilità politica. Se vogliamo che stia il colle, va costruita una maggioranza presidenziale, ma anche una maggioranza politica, per il governo del dopo. Per farlo serve un'iniziativa politica, non tutta a caso. Scenario che sostituisce al Totonomi per il Quirinale, quello per Palazzo Chigi. La prossima settimana ci saranno la direzione del PD, i vertici dei 5 Stelle e quello del centrodestra. I dem sono divisi su Draghi al Quirinale, soluzione praticabile per Enrico Letta, non auspicabile per la sinistra del Partito Democratico, così come per Leo e per i 5 Stelle. Le diverse anime del movimento si manifestano aggiornate. Dopo l'idea di una presidente donna, tratteggiata dopo l'ultimo vertice con Giuseppe Conte, alcuni pentastellati dal Senato hanno rilanciato il bis di Sergio Mattarella, nonostante l'indisponibilità manifestata dal capo dello Stato in carica. Non proprio un segnale di compattezza. Così Paola Taverna, vice di Conte, frena. Non sono parole opportune, non si tira per la giacchetta il presidente. Uniti i 5 Stelle, per ora, solo sono assiglio Berlusconi, su cui sono attestati anche PD e Leo, che considerano le ambizioni del Cavaliere come il vero ostacolo per una trattativa con il centrodestra. Berlusconi non nasconde le sue ambizioni, ma non fa ancora passi avanti. Convinto di poter strappare i voti trasversali e dal grande ventre del gruppo misto, per un'elezione comunque di misura, ma non della piena lealtà del suo schieramento. Intanto Forza Italia smentisce che Berlusconi possa essere fisicamente in campo a Montecitorio nella partita per il Colle, come grande elettore, uno dei 58 delegati scelti dai consigli regionali. Un'ipotesi mai esistita. E con una maggioranza di governo così ampia, ma così frastagliata, come abbiamo visto, e con l'imminente partita del voto per il nuovo presidente della Repubblica, diventano ancora più distorte le posizioni riguardo a un tema che invece è importantissimo ed è in agenda immediatamente. Perché l'Unione Europea ha deciso di mettere anche il nucleare tra le fonti, ovviamente di nuova generazione, nucleare di nuova generazione, tra le fonti che potranno continuare ad esistere nel periodo della transizione verde e questo spacca le forze politiche in Europa e a maggior ragione in questa fase anche in Italia. Comincia la notte di San Silvestro, Bruxelles. La Commissione Europea invia agli Stati membri una bozza di documento che inserisce gas ed energia nucleare tra le energie pulite. C'è sconcerto. Germania, Austria, Lussemburgo e Spagna non la prendono bene, anche perché non ci sono margini di mediazione. Prendere o lasciare. E qui da noi Matteo Salvini prende. E prende con entusiasmo, facendo balenare un possibile raccordo tra energia nucleare e calo del prezzo delle bollette energetiche. Avverte Salvini. L'unico modo per avere bollette meno care è guardare al nucleare e inserirlo tra le energie pulite. Chi dice di no, leggi Enrico Letta, danneggia ambiente e lavoro. Non possiamo permetterci i no ideologici di certa sinistra. Draghi, con chi sta, col passato o col futuro. Anche Forza Italia giudica quella della Commissione europea una linea pragmatica e la senatrice Anna Maria Bernini dice che escludere il nucleare vorrebbe dire non centrare gli ambiziosi obiettivi europei. Perché parlare di nucleare in Italia fa tornare alla mente scontri, battaglie, referendum degli anni passati fino al no definitivo del 2011. Dal Partito Democratico, infatti, proprio il segretario Enrico Letta tuona forte contro la fonte dello strappo. Bruxelles, non ci piace la bozza di tassonomia verde, ovvero il sistema di classificazione, che l'Unione europea sta facendo girare. L'inclusione del nucleare per noi è sbagliata e il gas non è il futuro, ma solo pura transizione verso le energie rinnovabili. Nessun cenno a Matteo Salvini e alle sue bollette meno care. Il cenno arriva, invece, e come, dai Cinque Stelle, che parlano apertamente di strumentalizzazione del caro bollette. Giuseppe Conte dice che il gas e il nucleare non fanno parte di quel futuro di cambiamento e di sostenibilità che va incentivato e chiama in causa il governo. Faccia sentire forte la propria voce in Europa. Ma c'è di più, perché dai Cinque Stelle arriva un attacco preciso e circostanziato alla Lega. Quali interessi si celano dietro la sponsorizzazione del nucleare da parte del partito di Salvini? Una fonte energetica vecchia, pericolosa, estremamente costosa, che è già stata bocciata dalla volontà degli italiani. Vedremo, come è ovvio, è una partita... Ma non è una partita. Sono scelte, scelte drammatiche, ma decisive per il futuro energetico. Ed altronde la questione allergia, abbiamo parlato tante volte del caro bollette, non è soltanto una questione italiana. Persino nel paese col sottosuolo più ricco dell'Asia, il Kazakistan, sono scoppiate a causa dell'aumento proprio del prezzo dei carburanti e del gas dei moti di piazza che sono diventati un vero e proprio scossone per il regime del Kazakistan, che infatti, come si sa, ha chiesto aiuto alla Russia di Putin. I militari russi sono arrivati in Kazakistan. Di fronte al dilagare delle violenze, alle decine di morti, alla convinzione che ad agitare le masse ci siano terroristi interni e gruppi paramilitari provenienti anche dal vicino Afghanistan, Mosca ha subito accolto la richiesta d'aiuto avanzata ieri sera dal presidente Tokayev. I militari sono partiti con i cargo, hanno cominciato a muoversi sul territorio kazako con i carri armati. La missione viene definita di peacekeeping ed è prevista dal Trattato per la Sicurezza Collettiva a cui aderiscono Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tajikistan, Armenia, Bielorussia. Durerà almeno un mese e, parole di Mosca, dovrà difendere il paese dal terrorismo garantendone sicurezza e integrità. La rivolta contro l'aumento dei prezzi dei carburanti arrivata al terzo giorno è già costata diverse vite. Decine poliziotti morti nel corso degli scontri, due sarebbero stati addirittura decapitati. Non si sa quanti manifestanti siano rimasti uccisi dai fucili dei militari che, come si vede da queste immagini, hanno sparato ad altezza Duomo. Oltre 2200 persone sono state arrestate. La folla inferocita oggi ha assaltato le sedi delle TV di Almati, la capitale economica del paese, le cui piazze e edifici sono tornati sotto il controllo delle forze di sicurezza dopo essere state occupate a lungo dai manifestanti. Anche dove non ci sono scontri nel gigantesco paese ricco di materie, prime e idroquarburi, c'è adesso grande incertezza. Per la sospensione delle attività della Banca Centrale si sono create ovunque le file ai Bancomat. Il presidente Tokayev, il secondo dopo i 29 anni di potere assoluto di Nazarbayev, che fino a ieri era il capo del governo, con i primi provvedimenti ha azzerato l'esecutivo oscurato internet, imposto un tetto ai costi dei carburanti per almeno sei mesi. Un tentativo di sedare le rivolte dilagate ovunque per l'aumento dei prezzi, in particolare del GPL, il più utilizzato per le auto, praticamente raddoppiati al termine dei tre anni del processo di liberalizzazione che li ha portati fuori dal controllo statale. Anche se, oltre alle proteste contro i prezzi, monta l'insoddisfazione di un paese ricchissimo di materie prime dove la redistribuzione ha favorito solo i soliti oligarchi e non è un caso che in diverse città siano state abbattute le statue del padre padrone Nazarbayev, l'uomo che ha dato il proprio nome, Nursultan, alla capitale, Astana. Andiamo a vedere però che gli Stati Uniti i quali hanno lanciato pochi minuti fa un pesante avvertimento alla Russia. Attenzione che non staremo a guardare se violerete i diritti umani in Kazakistan. Gli Stati Uniti in realtà stanno vivendo una giornata molto particolare perché è l'anniversario dell'assalto a Capitol Hill e praticamente Biden ha direttamente accusato per la prima volta chiaramente da Presidente il suo predecessore. Non era un gruppo di turisti fu un'insurrezione armata non cercavano di sostenere la volontà popolare ma ammiravano a sovvertirla. A un anno dall'assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump attacco che sconvolse il mondo e mise a rischio la tenuta democratica stessa degli Stati Uniti il Presidente Biden parla di quei fatti e lo fa attaccando frontalmente il suo predecessore affermando che prima creò scientemente una rete di menzogne a proposito delle presidenziali del 2020 e poi dopo aver incitato la folla ad attaccare assistette a ciò che stava accadendo dallo studio ovale senza fare niente per ore. Lo chiama solo l'ex Presidente uno sconfitto dall'ego ipertrofico che non accettava di aver perso e ha voluto riscrivere la storia non lo nomina mai per nome dunque ma l'affondo di Biden nei confronti di Trump colui che parole dell'inquilino della Casa Bianca cercò di rovesciare elezioni libere di sovvertire la Costituzione e di fermare un trasferimento pacifico dei poteri attraverso un gruppo di balordi come non accadde neanche durante la guerra civile segna di fatto una svolta anche comunicativa da parte dell'attuale Presidente perché dopo un anno passato a parlare a tutti e a provare a riunire un paese profondamente diviso Biden sembra prendere atto dell'impossibilità di riuscire nell'impresa anche alla luce di sondaggi che mostrano come il 71% degli elettori repubblicani creda che il vero vincitore delle elezioni sia stato Trump e come il 40% di loro ritenga giustificabile l'uso della violenza contro le istituzioni e allora è prevalentemente ai suoi sostenitori che si rivolge quando riafferma con forza la bontà della sua vittoria e parla di momento decisivo nella storia degli Stati Uniti e del mondo nella sfida tra democrazia e autocrazia non saremo mai una terra di re dittatori o autocrati dice Biden del resto tra pochi mesi ci sono delicatissime elezioni di medio termine che potrebbero far perdere al partito democratico il controllo del congresso e alimentare anche attraverso l'ingresso di una folta schiera di suoi fedelissimi le ambizioni di Trump alla ricandidatura nel 2024 il basso indice di gradimento al 56% i problemi nel far passare il piano di rilancio delle infrastrutture l'elevata inflazione che rischia di anestetizzare la ripresa erodendo il reddito soprattutto dei ceti medi sono tutti problemi che Biden cercherà di superare anche motivando la propria base ma sono temi sui quali falleva proprio Donald Trump che ha annullato la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere oggi a Maralago ma che non ha potuto esimersi dal diffondere un velenoso comunicato contro un presidente che ha scritto sta distruggendo la nostra nazione con politiche folli di confini aperti elezioni corrotte disastrose politiche energetiche mandati incostituzionali e devastanti chiusure delle scuole lui ha aggiunto ha usato il mio nome per cercare di dividere ulteriormente gli Stati Uniti ma non si tratta altro che di una distrazione dal fatto che ha completamente e totalmente fallito e con lo sbigottimento del mondo intero che guardava le immagini di Washington che un anno fa esatto l'America viveva uno di quei giorni che l'avrebbero cambiata per sempre era la stessa incredulità con cui si era assistito al crollo delle torri gemelli quasi vent'anni prima e il 6 gennaio del 2021 tutto comincia con una manifestazione di sostenitori di Trump l'ex presidente denunciava da mesi presunti brogli alle recenti elezioni e aizzava l'America contro il nuovo presidente considerato illegittimo con una raffica di tweet incitava il suo popolo a manifestare contro quello che definiva un furto e così a metà pomeriggio i manifestanti si mettono in marcia direzione Capitol Hill dentro le mura il congresso è riunito per certificare la vittoria di Biden fuori sempre di più la situazione sfugge di mano i manifestanti cominciano a scalare i muri esterni a sfondare porte e finestre in un attimo sono dentro al palazzo il congresso si ferma i deputati si mettono in salvo lasciando uffici e computer senza protezione si fa fatica a realizzare che non è un film quello a cui si sta assistendo gli assalitori indossano maschere impugnano armi e simboli suprematistici sono volti già noti alle cronache appartenenti all'organizzazione di estrema destra qui o non le notizie rimbalzano da una parte all'altra degli Stati Uniti e del mondo intero edizioni straordinarie di notiziari si susseguono alcune immagini rimangono impresse più di altre nella mente di tutti lo sciamano Jake Angeli condannato poi a 41 mesi di carcere l'uomo con i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi in spregio alla democrazia il poliziotto che da solo cerca di fermare la marea umana di manifestanti ci scappano anche 5 morti fra cui una donna colpita da un proiettile di un poliziotto quando l'ordine viene riportato ci vogliono 24 ore prima che Trump dica qualcosa lo fa con un discorso in cui per la prima volta dopo due mesi di battaglie legali concede la vittoria a Biden quello che è successo prima durante e dopo il più grave tentativo di bloccare il processo democratico che l'America abbia vissuto si è saputo solo dopo e non ancora tutto per esempio che Ivanka Trump cercò di convincere il padre in quelle ore concitate a fermare il suo popolo un'inchiesta che ancora in corso vede 700 persone incriminate a vario titolo violazione di zona riservata furto di proprietà del governo restano ancora aperte delle domande una fra tutte la situazione sfuggì di mano o fu un vero e proprio tentativo di golpe? ci sono altri argomenti di cui parlare perché c'è la vicenda di Trieste terribile c'è la situazione assurda che si è creata nel campionato di calcio e c'è da tornare sulle misure del governo ma prima ci fermiamo allora entriamo nella seconda parte del nostro telegiornale oggi abbiamo più tempo perché tirano il fiato gli amici di Nonda allora noi ne approfittiamo peraltro tra 18 giorni comincia la partita del Quirinale con le votazioni inizieranno fatalmente anche le nostre non stop le nostre dirette e già stasera noi salutiamo coloro che saranno invitati d'obbligo visto che ci sono sempre stati Franco Bechis e Marco da Milano allora ragazzi siete già tonici siete in ritiro vedo prepartita allora però vi chiedo subito una cosa abbiamo visto già prima nel telegiornale poi torneremo a parlarne seriamente le misure del governo ma anche le frizioni forti sul nucleare e sul nucleare e la predisposizione diciamo il gioco tattico in vista del Quirinale è davvero ancora tutto da scrivere secondo voi vado in ordine alfabetico Franco Becchi si è ancora tutto da scrivere o in realtà sotto le schermaglie i fuochi di artificio e c'è qualcosa di diverso no è tutto da scrivere non sarà nemmeno un percorso breve e non accidentato quello che avremo di fronte quindi diciamo non ci sono intese sotto banco almeno che risultino adesso ma le vedo improbabili c'è una parte che ha un ostacolo grande che è Silvio Berlusconi un ostacolo o una tu allora lo chiedo a Marco Damilano un ostacolo un ostacolo un ostacolo Berlusconi impedisce a Salvini e Meloni almeno per ora di entrare nel gioco nella partita pienamente sono sono d'accordo con quello che ha detto Franco è ancora tutto da scrivere il consiglio dei ministri di ieri sia per quello che è uscito platealmente cioè il dissenso dei ministri della Lega sia per quello che è stato più sotto traccia cioè un'opposizione anche dell'altra parte del campo ministri del PD ministri dei 5 Stelle e anche in parte del ministro Speranza che erano sulla linea esattamente opposta dicono di una centralità di Draghi quindi continua ad essere il candidato numero uno alla presidenza della Repubblica ma dicono anche delle grosse difficoltà a comporre il quadro Franco Becchis che hai parlato un po' meno poi dopo torneremo a parlare delle misure ma restando su questa partita del Quirinale dal tuo punto di vista le chance di Draghi le chance di Berlusconi le chance di Berlusconi sono quelle dei numeri di partenza e deve trovare qualcuno al di fuori dello schieramento che nel segreto dell'urna lo voti lui è convinto che ci sia diciamo parlando con i vari altri gruppi politici è difficile trovare prova di questa convinzione Draghi è l'unico candidato tanto più in pandemia nel senso che se poi abbiamo pure un discreto numero di parlamentari che potrebbero non essere in grado di partecipare alla votazione perché colpiti dal virus sarebbe l'unico che ha i numeri per tentare di diventare Presidente della Repubblica ma ha anche l'ostacolo di essere il comandante di una nave in assoluta tempesta perché quando arriveremo a quella data saremo in tempesta e anche aggiungo io c'è un piccolo problema nessuno lo può candidare perché se qualcuno lo candida lo brucia perché dice allora è il vostro candidato ma di questo riparleremo tra 18 giorni mentre cominceranno auspicabilmente le votazioni restate lì perché abbiamo ancora un debito di notizie e di servizi con i nostri telespettatori innanzitutto una vicenda di cronaca che è seguita perché è una storia tragica che viene da Trieste una quasi certezza e tante troppe cose ancora da chiarire per la procura di Trieste è ancora tutto da scrivere il giallo sulla funzionaria della regione Friuli in pensione Liliana Resinovic sparita all'improvviso il 14 dicembre scorso dopo essere uscita di casa ma è altamente probabile che il cadavere trovato ieri sera nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico sia il suo almeno dagli elementi in possesso degli inquirenti sarà l'autopsia prevista per lunedì mattina da nella conferma intanto dalle indagini trapella che il corpo molto probabilmente in quel luogo da diversi giorni è stato trovato in posizione fetale chiuso in due sacchi di quelli usati nei condomini per l'immondizia uno messo nella parte del capo e l'altro infilato dai piedi attorno al collo della donna erano legati due sacchetti di nylon ma non ci sarebbero segni di violenza lotta o strangolamento elemento che dicono gli investigatori lascia aperta ogni ipotesi anche quella più improbabile del suicidio domani il medico legale effettuerà una seconda più approfondita ispezione del cadavere sarà poi l'esame autoptico a chiarire da quanto tempo il corpo si trovava in quel boschetto e le ragioni del decesso il fascicolo aperto dal procuratore capo Antonio De Nicolo al momento procede senza indagati sia per la scomparsa di Liliana Resinovic che per il ritrovamento del corpo gli investigatori seguono già una pista precisa che parte dalle telecamere di videosorveglianza della città sia da quelle vicino all'abitazione di Liliana nel quartiere San Giovanni che della zona dell'ex ospedale psichiatrico e sono già state sentite diverse persone tra queste il marito Sebastiano Visentin 72 anni fotografo in pensione che ha detto di non sapere nulla su che fine avesse fatto la moglie assicurando che tra di loro non c'è mai stato un litigio e l'amico 82enne della vittima Claudio Sterpin da cui la donna si stava recando proprio la mattina in cui è scomparsa lasciando a casa documenti due cellulari e borsa come a voler far perdere le proprie tracce dal suo amico ci andava ogni martedì tra loro c'era un legame d'affetto avevano avuto una relazione negli anni 80 si erano rivisti e rievicinati a settembre lui agli inquirenti avrebbe però rivelato che Liliana voleva lasciare il marito il caos del calcio che è il caos poi di molti settori alle prese con la recrudescenza del covid la diffusione molto alta della variante omicron e i 220 mila casi di oggi ne sono la conferma ma che succede succede che tre partite non si sono giocate Atalanta Torino Bologna Inter e Salernitana Venezia ma soprattutto chi ha a decidere non è stato né la Lega né le società e sono state le ASL Tutto il calcio è contro la serie ASL sì avete capito bene serie ASL così è stato ribattezzato dai protagonisti il nostro campionato soggetto nel bene e nel male alle prese di posizione delle aziende sanitarie locali c'è una grande confusione stiamo assistendo a situazioni anomale ha detto oggi il direttore generale dell'Inter Marotta mentre la squadra si allenava al comunale di Bologna dove si trovava per affrontare un Bologna appunto stoppato dalla ASL abbiamo rinvii di partite e prese di posizione delle ASL che decidono autonomamente ha continuato Marotta dipendendo dalle regioni e non dal ministero fanno delle scelte e così assistiamo a cose strane come il Verona che va a giocare alla Spezia con 11 positivi mentre altre squadre sono state formate con un numero magari inferiore di positivi non c'è una linea guida vogliamo stilare un nuovo protocollo per avere un confronto col governo la competenza delle ASL va limitata fatto sta che delle 10 partite in programma oggi ben 4 non si giocano visto che le ASL di Bologna Torino Salerno e Udine hanno vietato le rispettive squadre di pertinenza di scendere in campo al termine della riunione d'urgenza tenutasi questa mattina a Milano il Consiglio di Lega ha deciso di procedere con il protocollo europeo che prevede la disponibilità di 13 calciatori tra la rosa di prima squadra e quella della primavera e tramite questo protocollo ha comunicato poco fa alla Lega saremo in grado di giocare la prossima giornata del 9 gennaio superando finalmente la confusione generata dai provvedimenti delle ASL e sì anche perché molti cominciano a perdere la pazienza come Maurizio Sarri il tecnico della Lazio oggi ha detto ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia se lo è si fa il lockdown e si ferma il calcio se no si declassa semplice influenza siamo in mano alla decisione di 20 regioni e quello che è un focolaio per uno non lo è per l'altro e così non va bene ho detto velocemente che adesso giocano Juventus e Napoli e che le partite di oggi si sono concluse con un 3 a 3 tra Lazio e Empoli con la vittoria del Milan sulla Roma per 3 a 1 la vittoria del Cagliari a Genova con la Sampdoria 2 a 1 e il pareggio il pareggio di Sassuolo e Genoa 1 a 1 e la vittoria del Verona alla Spezia contro lo Spezia per 2 a 1 è chiara che la situazione resta assolutamente caotica e urgono delle decisioni magari governative così ci riportiamo al nostro discorso e ai nostri ospiti e amici ieri sera il varo delle decisioni all'unanimità da parte del governo sappiamo l'obbligo vaccinale per i 50 anni l'obbligo anche per i 50 anni per chi ha da 50 anni in su anche del super pass per i luoghi di lavoro sappiamo delle altre misure parto dalle parole del presidente del Gimbe Cartabellotta che ha detto è troppo poco è troppo tardi la famosa locuzione inglese too little too late Bekis parto ancora da te è troppo poco o è qualcosa è contraddittorio oppure no? troppo poco non lo so è il provvedimento diciamo più rilevante e unico preso in un paese occidentale adottato in un paese occidentale sull'obbligo vaccinale è un obbligo vaccinale parziale che si riferisce a categorie di 27 milioni di italiani ma quelli senza vaccino sono circa 2 milioni e mezzo quelli sopra i 50 anni e quindi la platea sostanzialmente è quella è un po' confuso perché teniamo presente che questo decreto è il quinto decreto in poco più di un mese cioè dalla fine di novembre oggi sono stati 5 decreti legge a cambiare le norme su il covid e sulla protezione e quindi la gente è normalmente un po' confusa poi ci sono alcune disparità di trattamento ad esempio per chi ha un lavoro rispetto a chi non ce l'ha chi ha un lavoro perde nel caso non si vaccini entro il 31 di gennaio almeno con la prima dose e perde lo stipendio dal 15 di febbraio chi non ha un lavoro ma ha un sussidio come fosse diciamo la Naspi il reddito di cittadinanza o altri tipi di sussidi non li perde come chi è pensionato non perde la pensione ma quella diciamo è un'altra categoria hanno versato i loro contributi sarebbe una rapina fargliela perdere ma certo c'è disparità di trattamento tra le varie situazioni e il provvedimento è stato adottato in maniera un po' confusa forse era proprio il provvedimento che necessitava di un Draghi in prima linea che si esponesse in una conferenza stampa e che spiegasse anche la razio di questa misura perché fino a un certo punto sì oltre no perché sono cambiate nelle ore anche precedente al Consiglio dei Ministri alcune norme che erano contenute nella bozza di decreto che tutti abbiamo letto ma che non sono contenute in quello finale quelle su cui hanno litigato i partiti invece il Presidente del Consiglio è scomparso è scomparso allora da Milano due come abbiamo sentito sono gli aspetti delle disparità e anche l'assenza di una di una spiegazione di un'illustrazione al Paese di una misura che è importantissima perché come ricordava che siamo il primo Paese dell'Occidente che impone un obbligo vaccinale sia pure per le fasce di età sopra i 50 anni era forse il caso di qualcosa di più forte e drastico che non aveva neanche bisogno di essere spiegato cioè l'obbligo vaccinale per tutti e comunque è stato un errore non presentarsi davanti al Paese sull'obbligo vaccinale io penso per parafrasare il titolo di un romanzo stupendo di Joshua che è un obbligo tardivo credo che già da molti mesi fosse una misura che era nell'aria che il Green Pass il Super Green Pass ci siamo avvicinati con gradualità certo ma già quelle misure erano un obbligo di fatto in cui però lo Stato non si assumeva la responsabilità e la affidava ai cittadini cittadini che poi l'ha detto Franco in realtà l'86% della popolazione over 12 si è già vaccinata quindi è una platea addirittura molto più ampia almeno a livello di età di quella che sarà interessata da questo obbligo vaccinale cioè quella degli over 50 dopo di che questa misura è stata presa a questo punto c'è e credo anzi che non sia neanche finita qui io penso che una volta che si è fatto questo passo poi se ne faranno anche altri quindi si abbasserà l'età quindi per rispondere alla tua prima domanda Enrico credo che non sia finita qui credo che l'obbligo vaccinale poi inizierà interessare anche fasce di età più basse credo anch'io che doveva essere spiegato e che qui il presidente Draghi che si è intestato questo provvedimento perché nel consiglio dei ministri di ieri c'erano partiti che volevano un provvedimento meno drastico ma c'erano partiti che volevano qualcosa di più alcuni governatori del PD del centro-sinistra ad esempio volevano le scuole chiuse e su questo invece c'è stata una scelta di un altro tipo e allora visto che quel provvedimento è un provvedimento di Draghi Draghi doveva spiegarlo al paese come ha fatto in tutti gli altri passaggi intermedi anche passaggi molto meno importanti molto più banali diciamolo pure bene ci dobbiamo solo fermare un attimo perché saremmo già in là ma voglio chiedervi molte altre cose quindi prego voi e i telespettatori di restare un paio di minuti forse di più però poi andiamo con una batteria di domande che scottano eccoci qui ancora a commentare le misure varate dal governo con Franco Bechis e Marco Damilano bisogna aggiungere una cosa che il sistema di sanzioni per chi non ottempera diciamo a quelle che sono le prescrizioni del decreto cioè chi non accetta di l'obbligo vaccinale avendo 50 anni e più o chi vuole entrare nei negozi senza Green Pass eccetera sono in realtà come dire delle sanzioni non salatissime ecco se posso permettere c'è la punta la multa di 100 euro per chi non è vaccinato e ha più di 50 anni e scatta dal primo febbraio c'è una multa da 400 euro fino al massimo di 1000 per chi entra senza Green Pass e nei negozi c'è una multa salata più salata per chi tenta di andare al lavoro non avendo il Green Pass ma basterà tutto questo o ha un senso o in realtà come spesso accade nelle misure di questo tipo conta di più il lanciare l'ipotesi e far capire che si rischia il posto di lavoro o lo stipendio per meglio dire e poi tutto va da solo a posto Bekis sì mi sembra che quella dello stipendio sia la sanzione principale perché appunto rimanere senza risorse soprattutto in un periodo così è una pena che da sola muove in maniera importante il resto poi le multe uno non è vaccinato non è vaccinato il primo febbraio non è vaccinato anche il secondo febbraio il 2 febbraio il 3 febbraio il 4 febbraio lì non è chiarissimo che cosa accada con queste multe perché se sono 100 euro al giorno è un'altra cosa cioè fino a quando non ti vaccini tutti i giorni potresti prendere quella multa non è che puoi andare in per strada a chiedere ma scusi lei è vaccinato quanti anni ha è vaccinato ha una signora no? dici scusi lei ha più di 50 anni arriva la sberla giustamente giustamente sì ma è chiaro che le Asla hanno l'elenco di chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato o mandano direttamente una sanzione amministrativa a casa e non so poi in questo momento qui se sono in grado di farle perché mi sembra che sia un momento in cui fanno già fatica a fare il loro mestiere base sono assediate dai tamponi stiamo vedendo che molte delle cose che dovrebbero funzionare anche con le vecchie regole non stanno funzionando cioè io sono pieno di segnalazioni lettere anche conoscenti a dire la verità compresi i miei figli che si sono ammalati che anche loro hanno preso il covid il loro green pass non ha mai perso validità durante tutto il periodo della malattia mi sembra che le cose siano e non stiano funzionando in maniera non siamo il paese del tracciamento diciamo questo ne siamo sicuri no però uno ha il green pass valido bisogna vedere lì sta la sua responsabilità personale però c'è chi magari è sintomatico immaginate quanti giovani sono in questa condizione e può andare in giro col green pass valido Marco Damilano scusa Franco Marco Damilano no volevo chiederti una cosa più politica su un versante che conosce conosciamo già sabato si è per annuncia la prima manifestazione a Torino di quel fronte che prende il nome da Dupre Freccero il professor Mattei e dietro si intravedono Agamben e Cacciari cioè quel fronte che senza definirsi Novax e non essendo per molti aspetti è Novax però dice qui ci sono violazioni costituzionali a mazzi proprio e soprattutto queste ultime vanno contrastate quest'ultimo decreto rispetto a questo il decreto le ultime misure di ieri prestano un po' il fianco oppure no secondo te ma io intanto distinguerei la posizione di Cacciari da quella di altri non dico di tutti gli altri diciamo di altri perché su questo tema effettivamente si toccano congegni delicati ma non da oggi cioè noi abbiamo assistito nella fase iniziale del covid nel 2020 a non decreti che comunque hanno la forza della legge e quindi rientrano nella tipologia prevista dall'articolo 32 della Costituzione che prevede il trattamento sanitario obbligatorio insomma prevede la salute pubblica come diritto dell'individuo ma anche interesse della collettività questo dice la Costituzione ma insomma c'erano i dpcm cioè delle circolari ministeriali o poco più che incidevano sulla libertà di movimento sulla libertà di riunione sulla libertà di associazione allora questo tema delle garanzie e della salute pubblica che Cacciari ha posto con grande lucidità molto tempo fa è un tema molto serio quello che invece si vede è la costruzione di un movimento politico sulla base di un no a questo governo che è un governo di unità nazionale c'è una sorta di nuovo bipolarismo tra il governo Draghi di unità nazionale e Inovax allora questo è tutto un altro tema di cui forse anche né con lo Stato né con Inovax una riedizione 40 anni dopo poi voglio dire Rigo poi ci sono quelli che come dire io oggi non ho cercato di capire ad esempio il leader della Lega Salvini cosa pensa di quello che è stato deciso ieri oggi sui social ha parlato dei cinghiali di Roma ha parlato e questo giustamente perché è un tema molto importante del caro Bolletta ma poi c'aveva tutti quelli che gli rispondevano diciamo ma vuoi parlare di quello che è successo ieri ma cosa ne pensi di questa misura e anche per dare come dire un colpo sul fronte opposto la CGL ha chiesto per tutta l'estate l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori però oggi non ha detto niente allora questo significa anche assumersi la responsabilità poi di essere coerenti con quello che si è detto o con quello che si è fatto perché altrimenti poi c'hai da un lato il governo che per forza di cose fa qualcosa e deve assumersi la responsabilità poi c'hai quelli che dicono di no e in mezzo c'è il vuoto direi che questo è il vero problema politicamente è così Franco anche rispetto Franco Bechis anche rispetto alla destra di opposizione che è quella di Giorgia Meloni o la sinistra di opposizione quella di Fratoianni e c'è uno spazio o la situazione in realtà schiaccia davvero illusuriamente secondo un'illusione ottica oppure no è tutto il governo e dall'altra parte chi fa le manifestazioni beh è difficile dirlo perché come vedi il governo è in parte di lotta in parte di governo quindi ritagliandosi quelle posizioni qualcuno può tenere piede in due staffe e in qualche modo occupa anche un pezzettino di opposizione la Lega è così in questo momento però qui stiamo parlando di un decreto che sembra non averne padri né madri perché salvo il povero Brunetta che ieri diciamo ha tirato fuori tre quattro slogan preso all'uscita da Palazzo Chigi e ha detto siamo i più bravi del mondo e salvo lui la verità non ho visto nessuno metterci il cappello sopra né spiegarlo molte cose vanno spiegate sia pratiche e sia anche diciamo dei motivi che hanno portato a queste scelte e non ad altre pratiche perché per esempio io per esempio ricevo tante domande dice quindi adesso io che ho più di 50 anni vado a farmi l'altra dose di vaccino e non devo più firmare il consenso informato essendoci l'obbligo e questa cosa per esempio non è scritta nel decreto così dovrebbe essere e lo Stato farsi carico dei danni da eventuali reazioni avverse anche quelle lievi la verità anche quelle che abbiamo visto non so uno sportivo che non può più fare il suo lavoro per un certo numero di settimane per quanto non sia una reazione avversa gravissima però ha un danno sul lavoro e quindi e non ha una malattia riconosciuta queste cose qui adesso dovrebbero pesare sullo Stato questo decreto invece è senza relazione tecnica e quindi sembra che non abbia alcun tipo di costo e vanno chiarite anche queste questioni possiamo dire Franco e Marco in conclusione Franco Becchis e Marco da Milano che è anche un po' frustrante che queste domande e considerazioni ce le dobbiamo fare tra noi in assenza di interlocutori accreditati come coloro che queste decisioni hanno assunto la più vasta maggioranza di tutti i tempi però nessuno che ne fa da portavoce nessuno che ci mette la faccia questa è una considerazione almeno permettetemi di farla al di là delle valutazioni che ciascuno può avere oggi sul punto che diceva Franco del consenso informato è stato mandato in avanti un po' lo sbaraglio credo un sottosegretario Costa che ha detto che lo Stato propederà all'indellizzo in caso di danni da vaccino però certamente non ci possiamo accontentare non si può andare a dire l'ha detto Costa non è no direi di no non è il Presidente della Corte Costituzionale posso segnalare anche una cosa a questo proposito che esisteva un rapporto sulle reazioni avverse ai vari tipi di vaccino quel rapporto lo faceva l'AIFA l'ha fatto tutti i mesi fino al 27 settembre scorso a quella data siamo rimasti non ha più aggiornato né pubblicato alcun tipo di dato e proprio adesso che arriva l'obbligo vaccinale non è un granché sotto profilo della trasparenza perché comunque tutti gli altri paesi tutte le autorità degli altri paesi pubblicano ogni settimana questa la dobbiamo chiedere rispetto alla spiegazione anche di perché sono state assunte le decisioni rispetto alla sostanza delle decisioni e rispetto ai numeri sempre che la cosa più importante in piena pandemia è con la ciclopica campagna vaccinale che è in atto e che si vuole incrementare addirittura istituendo l'obbligo vaccinale per le fasce allora grazie davvero sia a Franco Becchis sia a Marco Damilano invito loro per prepararsi a quello che succede tra 18 giorni a vedere dopo di noi il film Ben Hur che è la migliore immagine di quello che ci potrà accadere per durata per lo meno a partire dal 24 di gennaio a partire gli scherzi grazie a tutti e due grazie ai nostri telespettatori ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti